Carissimo Marco, è quasi un anno che non ci vediamo. Camillo era un ragazzaccio simpatico e con molta voglia di divertirsi e quando finalmente si è, come avrebbe detto la mamma, sistemato, è lì c'è un mistero, caro. Sai, poi ti dici se me l'avesse detto, se me l'avesse detto e che cosa gli succedeva. È stata una cosa che se l'aspettava. C'è una lettera di Camillo, scusa, questa lettera a me, a te. A tu, la risposta. A tu, la risposta. A tu, la risposta. A tu, la risposta. Autore dei sovrapposti